Di ramate da Lisa nuove disposizioni per l'ingresso nelle residenze per anziani della Liguria. A 15 giorni dalla terza dose e tampone negativo, accesso in struttura senza quarantena. Con gestioni balneari le associazioni incontrano la politica per definire una strategia comune contro la sentenza del Consiglio di Stato. Si valuta l'ipotesi di ricorso in sede europea. L'amore rimane per sempre, chi fa il bene investe per l'eternità. Il pontefice all'Angelus ha ricordato che le cose terrene non sono destinate a durare, il bene invece non va mai perduto. San Martino, campione di carità. A Portofino il Vescovo ha celebrato la Santa Messa nella giornata mondiale del povero. Presentati i restauri del registo dell'archivio parrocchiale risalente al 1500. Si chiusa a Sessi Levante, The Wine Revolution, la quarta edizione della Kermesse dedicata al vino naturale. Ottimo il bilancio dagli oltre 70 vignaioli presenti dall'Italia e dall'estero ai numeri dei visitatori. La Lega Pro, terza vittoria consecutiva per la Virtus Entella a Chiavari. Grosseto fermato su rigore dall'Escano al 92esimo. Volpe, vittoria meritatissima, ci abbiamo creduto fino alla fine. Buonasera, buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Una situazione completamente diversa rispetto a un anno fa ma l'aumento dei contagi ha fatto nuovamente salire la guardia. Per questo sono state disposte da Elisa nuove regole per l'accesso alle strutture per anziani. Il primo servizio del giornale lo vediamo insieme. Spingere al massimo sull'acceleratore con le terze dosi e al contempo prevedere stringenti norme per evitare nuovi contagi dentro quei luoghi in cui si trovano persone fragili e quindi maggiormente a rischio. Prime fra tutte le strutture residenziali per anziani. E' qui che si stanno registrando alcune situazioni di ospiti già vaccinati con due dosi che sono risultati sintomatici e nella maggior parte dei casi asintomatici o paucisintomatici. Uno scenario decisamente diverso da quello precedente e la disponibilità del vaccino. La circolazione del virus è aumentata e anche perché probabilmente la risposta indotta dalle prime due dosi di vaccino soprattutto dagli anziani si affievolisce un po'. Partiamo però da una situazione che è completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso sicuramente molto più favorevole perché comunque la vaccinazione ci protegge e ci ha protetto fino adesso. Una situazione che ha portato a Lisa ad elaborare e prevedere ulteriori raccomandazioni riguardanti i nuovi ricoveri in struttura che variano a seconda della situazione del soggetto entrante. Coloro che hanno già ricevuto la dose booster da almeno 15 giorni o sono vaccinati con doppia dose da meno di sei mesi sono ammessi con tampone antigenico negativo senza periodo di ricovero in area di osservazione quella che viene chiamata comunemente zona buffer cosa che questa avviene con tampone iniziale negativo nelle altre situazioni ovvero se dalla somministrazione della seconda dose sono passati più di sei mesi se sono passati meno di 15 giorni della terza dose o se si tratta di ospiti non vaccinati o vaccinati parzialmente. Passati gli otto giorni di osservazione poi e a seguito di un tampone di controllo negativo la missione avviene in degenza ordinaria in caso di positività del secondo tampone si procederà invece all'isolamento dell'ospite fino alla sua negativizzazione o al ricovero in ospedale se richiesto dalla sintomatologia clinica. Siamo a proposito di Covid oggi 149 nuovi casi a fronte di 2072 tamponi molecolari effettuati il numero degli ospedalizzati sale a 12 per un totale in Liguria di 110 ricoveri di cui 8 in terapia intensiva. Di questi 7 sono non vaccinati e uno presenta una patologia con problemi clinici non correlati all'infezione Covid. 64 i guariti non c'è stato fortunatamente nessun decesso in ASL4 i contagi sono stati 18 c'è un ricovero in più a sessi lavanti dove i posti letto occupati ora sono 11 in sorveglianza attiva ci sono 497 persone per la vaccinazione infine oggi sono state somministrate 3.110 dosi di cui 267 nella nostra ASL. Siamo sostanzialmente allineati alle altre regioni così commenta il presidente della Liguria Giovanni Totti che aggiunge l'aumento dei contagi è dovuto soprattutto a una circolazione del virus a livello scolastico ovvero a quei bambini che non possono ancora vaccinarsi vedremo quando potranno farlo in base alle scelte della comunità scientifica italiana e anche del governo centrale. L'amministrazione comunale di Chiavari convoquerà un consiglio comunale per parlare della vendita degli alloggi nell'ex sede dell'Agenzia delle Entrate questione tirata in ballo sabato da alcuni consiglieri di opposizione. L'assemblea sarà convocata spiega il sindaco facente funzione Silvia Stanig in una nota per chiarire le strumentalizzazioni della minoranza e far emergere chi effettivamente negli anni ha commesso errori su questa pratica dimostrando che la nostra amministrazione ha deliberato sempre in conformità alle norme vigenti e negli interessi dei Chiavari e dei Chiavaresi. Queste le parole del sindaco facente funzioni. I presidenti delle associazioni di Balneare della Liguria hanno incontrato l'assessore regionale al demanio Marco Scaiola all'hotel Regina Elena di Santa Margherita Ligure. L'obiettivo è fare il punto su come agire dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha fissato la scadenza delle concessioni alla fine del 2023. Il servizio da Santa Margherita Ligure. Si cerca una strategia comune per capire quali siano i margini di manovra dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha fissato al 31 dicembre 2023 la scadenza delle concessioni balneari. Una delle vie da esplorare potrebbe essere quella legale con ricorsa alla Corte Europea che superi le disposizioni del Consiglio di Stato. Gli avvocati sono al lavoro. Vittorio Ratto, presidente dell'Associazione Italia Balneare chiede che si ritorni alla legge Centinaglio che aveva fissato al 2033 il termine delle concessioni e sulla quale molti lavoratori del settore hanno fatto investimenti e progetti sulle loro attività. Oltre alle vie legali poi ci saranno manifestazioni per dare visibilità alla battaglia. E poi ci saranno sicuramente in maniera intensiva delle assemblee, dei convegni delle discese di piazza per far sentire la nostra voce. Netta anche la posizione di Asso Balneare di Guglio. Il presidente Paolo Ferraresi chiede alla politica di intervenire per ribaltare la sentenza del Consiglio di Stato che non tiene conto delle persone che lavorano in queste aziende. L'assessore regionale al demanio marittimo Marco Scagliola spiega che è il governo ad avere competenza e possibilità di fare azioni concrete. Le regioni possono solo sostenere o affiancare. Mi serve immediatamente un'azione forte del ministro, del governo in generale e del Parlamento italiano che mi sembra avere un po' lasciato ad altri, quindi ai tribunali, la competenza. Il primo passo quindi è chiedere una nuova legge che definisca una durata più ampia delle concessioni e poi da lì proseguire un confronto con i balneari per risolvere le problematiche che esistono nel settore. Quindi bisogna tutelare le nostre imprese. Certo, anche nel comparto balneare ci sono molte cose da migliorare, ma noi le faremo insieme a loro. Ma le facciamo nel momento in cui questi imprenditori, queste famiglie hanno delle certezze. Nel momento in cui un imprenditore sa che avrà la propria azienda per al massimo due anni capisce quali termini di confronto puoi avere con questa persona. Nessuna. In lutto i balneari di Lavagna per la scomparsa di Pier Giorgio Botto, 61 anni, storico bagnino e componente dello staff di Bagni Stella a Lavagna. Era molto conosciuto anche per la sua professione che aveva esercitato in diversi stabilimenti del territorio. Lo avevamo intervistato proprio sul finire dell'estate scorsa per tratteggiare un bilancio dell'attività ripresa con ancora alcune restrizioni da rispettare per evitare contagi. Sorrisfatto dell'andamento della stagione per il ritorno della clientela più affezionata che vedeva in lui un punto di riferimento. Purtroppo lascia la compagna Nadia, il figlio Sebastian, pallanuotista, il papà Yvonne e tanti amici e parenti. Ai familiari le condoglianze da parte dello staff di Telepace. Non si volti la testa di fronte ai deboli ma si agisca per sollevare dalla sofferenza impegnandosi socialmente e politicamente. Sono le parole del Pontefice nella Santa Messa per la quinta giornata mondiale dei poveri celebrata nella Basilica di San Pietro in Vaticano e ha chiamato cristiani a essere convertitori di bene. La storia è segnata da tribolazioni, da violenze, da sofferenze, da ingiustizie che feriscono, opprimono e schiacciano ai poveri gli anelli più fragili di questa catena in attesa di una liberazione che sembra non arrivare mai. Francesco nell'Omelia per la Santa Messa in occasione della quinta giornata mondiale dei poveri nella Basilica ha lanciato un richiamo ai cristiani tutti a non voltarsi di fronte ai più deboli. Parla dei due aspetti della storia, del dolore di oggi e della speranza di domani. Da una parte quindi le dolorose contraddizioni della realtà umana e dall'altra il futuro di salvezza riposto nell'incontro col Signore. A noi, specialmente a noi cristiani, dice il Pontefice, tocca organizzare la speranza. Bella quell'espressione di Tonino Bello, organizzare la speranza, tradurla in vita concreta ogni giorno, nei rapporti umani, nell'impegno sociale e politico, così ha commentato il Papa. A me fa pensare il lavoro che fanno tanti cristiani con le opere di carità, cosiddette il lavoro dell'emosineria apostolica, ma cosa si fa lì? Si organizza la speranza, non si dà una moneta, no, si organizza la speranza. Questa è una dinamica che oggi ci chiede la Chiesa. Così ha concluso Papa Francesco. E parleremo della giornata mondiale dei poveri questa sera indirettamente su ospiti della comunità di Sant'Egidio di Rapallo, abbiamo raccolto la voce dei volontari di alcune persone che vivono un momento di difficoltà. Un'occasione per riflettere sulle parole del Papa, ma anche per toccare con mano i problemi reali che hanno in questo momento molte famiglie. L'inizio è fissato per le 21.10 sul canale 15 di Telepace, da domani anche disponibile sul nostro canale YouTube. L'amore rimane per sempre, chi fa il bene investe per l'eternità. Papa Francesco ieri all'Angelus ha ricordato che le cose terrene come il denaro, il successo, l'apparenza, il benessere fisico non sono destinate a durare. Rimarrà invece soltanto l'amore perché il bene non va mai per tutto. Il servizio dal Vaticano. Ci sono cose che passano e altre che restano per sempre. Le parole del Signore non passano e in questa differenza tra il limite e l'eterno che risuonano le parole di Gesù con cui si apre il lebrano evangelico di questa domenica il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo. Non è catastrofismo, Gesù vuole farci capire afferma Francesco all'Angelus che tutto in questo mondo prima o poi passa. Alla fine però aggiunge il pontefice Gesù dice cosa non crolla il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno. E dunque è ciò che non passa l'orizzonte verso cui tendere e orientare la propria vita. Per questo Francesco consiglia in caso di scelte importanti di immaginare prima di decidere di stare davanti a Gesù, di stare come alla fine della vita davanti a lui che è amore. E pensandoci lì al suo cospetto alla soglia dell'eternità prendiamo la decisione di oggi. Così dobbiamo decidere sempre guardando l'eternità guardando Gesù non sarà forse la più facile non sarà forse la più immediata ma sarà quella buona quello di sicuro. Il Papa sottolinea poi che Gesù stabilisce una distinzione tra le cose penultime quelle che passano e le cose ultime che restano. Su che cosa chiede allora Francesco conviene investire la vita su ciò che è transitorio o sulle parole del Signore che rimangono per sempre? Evidentemente su queste ma non è facile. Lungo il cammino della vita non è in realtà essenziale ciò che è tangibile siamo tentati afferma il Papa di aggrapparci a quello che vediamo e tocchiamo e ci sembra più sicuro. È umano ma è un inganno avverte Francesco perché il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno. Questo spiega del Pontefice è dunque l'invito. Non costruire la vita sulla sabbia il discepolo fedele per Gesù è colui che fonda la vita sulla roccia che è la sua parola che non passa. Il cuore pulsante quello che dà solidità è la carità la carità non avrà mai fine di San Paolo cioè l'amore chi fa il bene investe per l'eternità. Don Julian Caron si è dimesso dalla presidenza di Comunione e Liberazione scrivendo una lettera alla fraternità. Con questa decisione Don Caron rispetta il decreto generale che disciplina l'esercizio del governo delle associazioni di fedeli voluto da Papa Francesco. Ricordato che Caron era la guida della fraternità dal 2005 la decisione spiega per favorire che il cambiamento della guida si svolga con la libertà che tale processo richiede. Nella giornata mondiale del povero Portofino ha celebrato la solennità di San Martino un campione di carità così ha detto il vescovo Monsignor De Vasini che ha presieduto la Santa Messa nella chiesa intitolata Al Santo. Nell'occasione è stato presentato il restaurato registro dell'archivio storico parrocchiare. Lo vediamo insieme. Per i portofinesi la memoria liturgica di San Martino cade in un periodo in cui il paese dismesse le vesti di Borgo dei Vip si cala in una dimensione autunnale meno patinata e più autentica sempre affascinante. Portofino deserta con i gabbiani col mare col cielo plumbeo ha un suo fascino ma non solo turistico anche artistico culturale. Particolarmente ricca di significati la festa di San Martino coincisa con la quinta giornata mondiale del povero. Martino ha spiegato il vescovo è un campione della carità poi la riflessione sul Vangelo del giorno con il richiamo alla creazione. Io sono un essere fatto per amare ed essere amato la mia vocazione è l'amore proprio perché sono fatto a immagine e somiglianza di Dio. A Portofino la festa del titolare è stata anche l'occasione per riscoprire un pezzo della sua storia legata al ritrovamento e al restauro di un registro dell'archivio parrocchiale risalente al periodo tra il 1500 e il 1700. Le carte che sono arrivate fino a noi costituiscono il nucleo fondamentale per rileggere ricostruire e studiare la nostra storia la storia di un territorio. Anche secoli fa il porticiolo è stato meta di stranieri. Sono capitani patroni di navi che venivano dalla Francia dalla Provenza da Ragusa l'attuale Dubrovnik dalla Sicilia naturalmente poi da Genova e da altre località Liguri ma anche un aspetto molto interessante è che vengono battezzati a Portofino i figli di questi capitani e patroni di navi stranieri. Molti secoli prima della Portofino meta del turismo internazionale che noi oggi conosciamo esistevano a Portofino meta dei commerci e dell'economia internazionale. La particolarità del registro custodito nella parrocchiale di San Martino è che venne istituito ben prima del concilio di Trento data in cui ogni parrocchia iniziò a dotarsene. È un registro di battesimi le date delle prime scritture sono del 1554 precede di una decina d'anni le decisioni del concilio di Trento proprio a riguardo di questo tipo di registro. Inoltre l'esistenza di questo registro ci fa notare una rete amministrativa ecclesiastica molto efficiente. Santa Margherita Liguri ha fatto ricorso al Tar del Lazio contro la perimetrazione provvisoria del parco di Portofino. Il comune spiega al sindaco è stato tra i sostenitori della nazionalizzazione del parco. Ad agosto l'amministrazione ha presentato una proposta che escludeva le parti urbanizzate del territorio. Tuttavia mentre il governo cercava l'accordo con gli enti locali il ricorso di un'associazione ambientalista prosegue Paolo Donadoni ha portato il ministero a far entrare in vigore la disciplina di salvaguardia che di fatto considera dei confini estesi in modo eccessivo e che include anche zone urbanizzate. Un atto dice Donadoni che non tiene conto delle reali esigenze del territorio ed è nociva per tutti. Di qui il ricorso al Tar. Federico Bertorello presidente del consiglio comunale di Genova è stato eletto all'unanimità alla guida del CAL il consiglio delle autonomie locali della Liguria subentra a Marco Di Capua stamane durante l'elezione il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei ha ricordato come Di Capua stesse facendo un ottimo lavoro amministratore locale di grande valore umano e spessore politico il CAL è l'organo di consultazione tra regione ed enti locali. Prima riunione del nuovo direttirovo dell'Ampi di Lavagna il mio presidente Matteo Brugnoli e il suo vice Sabina Raffo Maria Paola Serbandini Angelo Canepa Mario Consiglieri e Rinaldo Raffo hanno deciso in discontinuità col passato di nominare una segretaria con funzione organizzativa daranno una mano anche Marco Bertani Cecilia Cereda Francesco Codebò e Franco Fazio infine il direttivo ha deciso di modificare il nome della sezione in Ampi Lavagna Valliaveto Sturla e Graveglia si chiusa oggi a Sessi Levante The Wine Revolution la quarta edizione della Kermesse dedicata al vino naturale l'iniziativa ha fatto ottimi numeri dagli oltre 70 vignaiuoli presenti dall'Italia e dall'estero ai numeri dei visitatori che sono stati veramente tanti che hanno potuto dialogare in presa diretta con i produttori noi siamo andati a vedere questione questione di chimica a Wine Revolution nel senso però che non ce n'è proprio la quarta edizione riporta infatti a Sessi Levante dopo lo stop del 2020 il vino naturale quello artigianale con zero aggiunte la manifestazione che si è chiusa oggi ha attirato semplici degustatori e operatori del settore sono tutti i vignaioli che arrivano da tutta Italia quindi abbiamo presenze dalla Sicilia dalla Sardegna dal Trentino Alto Adige tutta Italia e anche delle presenze straniere molto importanti una tra queste è lo Champagne di André Buforte che quest'anno ha scelto proprio The Wine Revolution a Sestre Levante per essere presente come unica fiera che fa all'anno in tutta Italia l'interesse per il vino naturale crescente dicono gli organizzatori soddisfatti dei numeri di questa due giorni sestrese insomma non è solo una moda oggi anche i piccoli vignaioli sono un presidio del territorio perché mantengono puliti i terreni a volte abbandonati e il vino naturale oggi viene prodotto con attenzione affinché il sapore sia corretto e tiene conto della tradizione del passato ad essere interessate dai vini biologici e biodinamici sono soprattutto le nuove generazioni la fascia più importante a livello numerico sono 25 40 45 sì giovani perché comunque i giovani prima di tutto gli interessa il discorso ecologia il discorso comunque di una natura sana e dopodiché comunque gli interessa molto il rapporto diretto con i produttori perché qua a Wine Revolution l'utente ha un rapporto diretto senza barriere col produttore gli alunni della scuola secondaria superiore fossati da Passano di Varese Ligure hanno vinto il progetto Green Walk organizzato da Lanci i ragazzi hanno ripreso i temi dell'alimentazione sana dello sport pulito senza doping del benessere della conoscenza del territorio oltre ad aver analizzato alcune linee fondamentali dell'alpinismo lento praticato dall'associazione Mangia Trekking e anche quest'anno l'Istituto Comprensivo Rapallo aderisce a Libriamoci la manifestazione promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ed è quello dell'istruzione per liberare la lettura a scuola da oggi e fino al 19 novembre scrittori e personalità della cultura leggeranno a distanza un brano di un libro che li ha emozionati facendosi testimonial del piacere di leggere tra questi Rosangela Bonsignorio direttrice del Festival della Comunicazione che aprirà la settimana Valeria Corciolani Marco Tomatis Gianluca Favetto e Mauro Boccaccio da oggi sarà possibile visualizzare e caricare su internet direttamente dal fascicolo del cittadino il proprio abbonamento a MT o quello del nucleo familiare si potrà verificare la validità e procedere ad effettuare la ricarica del City Pass tutto online occorre accedere con Speed o carta di identità elettronica la piattaforma si presenta in maniera pratica ed intuitiva per fare un esempio se uno degli abbonamenti fosse scaduto si potrà effettuare la ricarica con un click si verrà direttamente trasferiti sul sito di AMT per effettuare l'acquisto e quindi il relativo pagamento siamo agli appuntamenti può partire la sigla appuntamenti in agenda per martedì 16 novembre dalle 9 alle 13 in via Salvi zona Tannino Sestri Levante sarà allestito il mercato agricolo e delle autoproduzioni a chilometro zero possibilità di acquisto diretto di prodotti agroalimentari del territorio apertura dalle 9 alle 14 per il museo archeologico al primo piano di Palazzo Rocca in via Postaguta a Chiavari in esposizione reperti e testimonianze archeologiche provenienti dal territorio chiavarese alle 9.30 a Genova in programma l'inaugurazione della 26esima edizione di Orientamenti React il primo salone dell'orientamento in Italia organizzato da Regione Liguria la tre giorni si svolge in presenza ai magazzini del cotone nella zona del Porto Antico nell'ambito del novembre pedagogico a Sestri Levante in via 20 Settembre dalle 10.30 danza in fascia 0-9 mesi con Francesca Lavecchia la Santa Margherita Ligure dalle 17.30 letture animate e interattive tra genitori e bimbi con Antonio Panella nei locali di spazio aperto infine a partire dalle 17 nella sala livellare di Via Del Pino a Chiavari si svolgerà la cerimonia in ricordo dell'inaugurazione della Camera del Lavoro nel Tiguglio ci sarà la relazione storica di Giorgio Gettoviarengo previsti gli interventi di Domenico Del Favero responsabili di CGL Tiguglio Golfo Parediso e Igor Magni segretario generale della Camera del Lavoro metropolitano di Genova al termine dalla sete della CGL di Chiavari in corso Garibaldi verrà scoperta una targa commemorativa Lo sport una vittoria di rigore negli ultimi minuti di recupero è Facundo Lescano all'ultimo respiro a regalare i tre punti alla Virtus Entella vittoriosa 1-0 sul Grosseto la comunale di Chiavari va in scena una partita dominata dal primo all'ultimo minuto e vinta meritatamente con il gol dell'argentino dagli ultimi metri soddisfatto a fine partita mister Gennaro Volpe vittoria meritatissima ci abbiamo creduto fino alla fine ascoltiamo sì sapevamo che sarebbe stata una partita complicata abbiamo trovato un Grosseto ben organizzato che si è difeso con tanti uomini nella propria metà campo abbiamo fatto fatica soprattutto nel primo tempo a trovare soluzioni a trovare giocate tiri e poi secondo tempo sicuramente è andata meglio abbiamo creato di più siamo tutti felici perché era una vittoria non scontata ma difficile contro una squadra che aveva bisogno di punti però la squadra è stata brava e i cambi sono stati determinanti le occasioni più grandi sono arrivati gli ultimi 20 minuti questo è un bel segnale perché fa capire che comunque nonostante i primi 70 minuti in cui la squadra aveva creato non si è persa la calma non si è persa la pazienza c'era quella convinzione di poterla vincere anche la fine sì sono d'accordo la squadra ci credeva abbiamo lavorato bene tutta la settimana sapevano dell'importanza che aveva questa partita ai fini della classifica e sono contento perché la squadra ci ha creduto fino alla fine e ha trovato una vittoria che penso sia stata meritata abbiamo fatto capire che ci siamo questo è lo spirito giusto purtroppo sono queste partite qui come la vispesa mi sembrava la stessa partita che è arrivato il novantesimo e loro hanno cominciato a perdere tempo eccetera anche da inizio gara però dai l'importante era non far tre punti perché anche qualche risultato delle altre squadre ci ha fatto balzare un po' in classifica sì era stata una bella vittoria era importante dare continuità perché arrivavano due vittorie e sono contento che abbiamo meritato la vittoria ma penso che stiamo raccogliendo ciò che abbiamo seminato e secondo me i risultati negativi che sono arrivati non ce li meritavamo per la serie D una vittoria e una sconfitta per le squadre del Tiguglio in casa la lavagnese ha avuto la meglio sul saluzzo per 2 a 1 i gol al sesto del primo tempo di Lombardi da segnalare al 37esimo il gol annullato a Righetti per fuorigioco al 57esimo della ripresa la lavagnese raddoppiato con Croci il gol della bandiera degli ospiti al 95esimo su rigore di Lewandowski sconfitta invece in trasferta per il Sessi Levante fermato sull'1-0 dal Varese in classifica la lavagnese nelle posizioni centrali a 14 punti terzo ultimo invece il Sestri con 9 punti questa era l'ultima notizia del nostro giornale il prossimo appuntamento con l'informazione come sempre rinnovato domani alle 12.45 con Tiguglio Oggi la nostra serata prosegue in prima serata con direttamente su questa sera non perdetelo grazie per essere stati con noi una buona serata a tutti e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.